Nuovo colpo di scena nella corsa per il posto di presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Si sfila un altro dei tre finalisti. A rinunciare a concorrere infatti, dopo Marcello Mentini, anche Riccardo Ercoli, che ha comunicato la sua decisione al governo sanmarinese a seguito di una presunta incompatibilità istituzionale. In Lizza quindi al momento resterebbe solo Gianfranco Antonio Vento, ma non escluso che possano venire presentati da Palazzo Begni anche altri nominativi. In particolare si parla di un candidato di origini egiziane. Il dottor Marinelli lascia l'ospedale di Stato, una notizia che sta scatenando la reazione dei pazienti che ieri hanno riempito di telefonate sia cardiologia che lo stesso medico. Il titano perde un professionista eccezionale a livello tecnico ed umano. La direzione generale dell'Ise replica con un comunicato dicendo che la sua età, Marinelli del 1956, è umanamente possibile fare delle valutazioni personali che lo hanno portato a richiedere un'aspettativa di due anni a favore di altre scelte personali. Il comitato esecutivo, continua il comunicato, ha ritenuto legittimo di autorizzare questa sua richiesta. Come dire, è vecchio e può essere sostituito. Il direttore generale Bianca Caruso sulla questione del medico mancante in Città 2 si scaglia contro il giornale .sm, reo di aver provocato, secondo lei, allarme con un'azione non civicamente apprezzabile. Nonostante le criticità legate all'assenza temporanea ed improvvisa, continua Caruso, entrambi gli ambulatori di città hanno garantito gli orari di apertura programmatici. In merito al comunicato stampa della direzione IS sulla questione del medico mancante, il giornale .sm constata che si vuole negare per iscritto il fatto che il medico sia andato in feria, come invece ci ha detto l'infermiera. Dichiarazione che noi, di giornale .sm, abbiamo registrato e filmato. Il comunicato della Caruso non vuole dire nulla se non che l'ambulatorio fosse aperto, ma il medico, come abbiamo riscontrato, non c'era. Chi sbaglia di due, il direttore Caruso o l'infermiera? Non lo sappiamo. Quello che abbiamo constatato è che l'IS sotto questa gestione è in grave difficoltà ed ogni giorno escono fuori dai media delle notizie alarmanti, come quella relativa al primario Marinelli. I sanmarinesi si domandano se si può continuare in questo modo ed anche se l'IS, con queste improvi di azioni, possa resistere e continuare ad essere un'eccellenza tutta sanmarinese. È a rischio il welfare? Continuano a trasmettere informazioni faziose e parziali. Così la Segreteria di Stato al territorio contro il comitato referendario e i sostenitori del no all'insegnamento del polo della moda. Dalla Segreteria ricordano infatti che per la prima volta a San Marino è stato adottato il criterio della compensazione e che l'area individuata come non edificabile, dopo che lo è diventata quella dove sorgerà il Luxury Store, è pure di maggiore pregio. Dalla Segreteria di Stato rendono noti inoltre che nel caso il progetto saltasse, oltre alle mancate assunzioni, arreccherebbe anche un danno gravissimo alla nostra Repubblica in termini di credibilità internazionale. Seguono ormai senza sosta su tutto il territorio sanmarinese i controlli della Polizia Civile contro l'evasione fiscale. Da città a Dogana si sta controllando che l'uso della smacard venga rispettato da parte dei commercianti del Titano. Purtroppo la mancata strisciata fiscale è ancora un male piuttosto diffuso. Già in dicembre erano scattate le prime sanzioni. Oggi, però, riferisce sempre la Civile e il quotidiano alla tribuna, sono veramente pochi coloro che strisciano la smacard fiscale. Infatti nel giro di due o tre mesi sono state già eseguite decine di segnalazioni del tributario, che ha disposto parecchie sanzioni salate.